20 maggio, oggi parliamo di un grande santo della tradizione francescana. In realtà, ecco, dopo il 17, che è la festa di San Pasquale Bailon, c'è il 18, la festa di San Felice da Cantalì, c'è il 19, la festa di San Crispino da Viterbo, questa è un po' una tripletta di santi laici francescani. Uno minore, il patrono dei congressi eucaristici internazionali, San Pasquale Bailon, e due frati cappuccini, noti per la loro semplicità, uno San Felice addirittura analfabeta. Dopo questi tre santi francescani laici troviamo invece un santo francescano sacerdote, parlo di San Bernardino da Siena, un santo che ha avuto una importanza straordinaria nella vita dell'ordine minoritico, dell'ordine francescano. Egli nasce a massa marittima l'8 settembre 1380. Ancora piccolo perde entrambi i genitori e va a vivere a Siena con alcune zie nubili. E' importante anche la città dove vive e che solitamente viene indicata come la sua città di provenienza. E' l'anno di nascita, perché San Bernardino da Siena nasce l'8 settembre, che è appunto festa della Natività di Maria, e viene considerato di Siena, ma proprio nel 1380 era morta Santa Caterina da Siena. Per cui questa grande santa Domenicana passa idealmente il testimone della santità a un grande santo francescano. A quei tempi la Toscana era al centro di questo fermento culturale e anche economico, politico, spirituale che era il preludio un po' dell'umanesimo e del rinascimento. E Siena con Santa Caterina e San Bernardino diventa un po' l'ombelico spirituale dell'Italia di quel tempo. E il piccolo Bernardino viene istruito bene, perché la famiglia aveva una posizione economica ragguardevole, e viene educato bene, istruito, abituato alla devozione alla Madonna. A un certo punto lui lo si vede distratto, le zie tutte intente all'educazione di lui dicono ma chissà perché è così distratto questo giovane, oramai era cresciuto. Ma lui si accorge che lo seguono, lo pedinano le zie. E quindi un giorno dice mentre mangia mi sono trovato la fidanzata e ogni giorno la vado a visitare. Le zie lo spiano e si accorgono che si reca alla cattedrale di Siena a venerare un'immagine della Madonna. Capiscono che il giovane Bernardino vuole consacrarsi a Dio e dopo aver fatto gli studi opportuni, anche teologici approfonditi, diventa sacerdote e inizia una straordinaria campagna di predicazione. Diventa uno dei predicatori più ricercati ed efficaci del suo tempo, non solo per la Toscana ma un po' per tutta l'Italia, soprattutto l'Italia centrale. A un certo punto diventa così celebre e famoso che non bastano più le cattedrali per accogliere il suo uditorio. E per esempio quando predica a Siena, che idealmente è la sua città d'origine, la città in cui è stato allevato e cresciuto, deve predicare a Piazza del Campo. E c'è addirittura il primo esempio di uno stenografo che prendeva appunti sulle sue omelie, sulle sue predicazioni, sui suoi insegnamenti. E quindi ci sono giunte queste omelie ed è un capolavoro di letteratura ed è una finestra importante sulla vita del tempo perché ci sono anche esclamazioni, degli incisi all'interno dei suoi discorsi che ci mostrano la vita di allora perché la gente si portava anche, le donne per esempio, la lana da filare o altri lavori manuali mentre ascoltava le sue prediche. Poi l'uditorio era diviso tramite una tenda tra maschi e femmine per evitare che gli occhi dei maschi si balestrassero, dice la cronaca, a guardare le femmine. Non solo, ma i capitani reggenti, i politici della Siena di allora avevano una tribuna di onore accanto a un palco di legno che era stato allestito guardando lui alla destra, guardando il palco su cui era lui alla destra. Come era strutturata la sua predicazione? Egli incentrava la sua predicazione sul nome di Gesù, sulla persona di Gesù e cominciò a diffondere quella tavoletta con il monogramma sacro IHS che può essere inteso sia come le prime tre lettere delle parole IESUS OMINUM SALVATOR sia come le tre lettere della parola greca IESUS, quindi il nome di Gesù. Una tavoletta scritta in oro su sfondo azzurro che poi faceva anche venerare alla gente. E succedevano tanti miracoli. Tra le situazioni che si risolvevano e le cose che si producevano durante le sue predicazioni c'è la conversione di tanti usurai e la riappiacificazione di tante famiglie che erano in guerra. Per cui anche su un piano economico la dottrina economica, teologico, economica di San Bernardino è studiata anche dagli economisti moderni perché la sua predicazione è alla base anche della nascita dei cosiddetti monti di pietà che sono una sorta di banche che hanno un tasso agevolato per i poveri. Ma la sua opera di riforma si estende anche all'ordine francescano. Egli è stato molto importante per l'ordine francescano perché ha richiamato i minori cioè quella corrente spirituale dell'ordine francescano un'ulteriore riforma che si chiama osservanza. Nel 1444, quando era già vecchio venne chiamato all'Aquila a predicare e lì morì siccome la città dell'Aquila era divisa in due fazioni cominciò a uscire sangue dalla bocca di San Bernardino fino a che le due fazioni non fecero pace tra di loro era una lavina di sangue un rigolo di sangue che non si estingueva quando la città si consegnò alla pace di Cristo il sangue smise di scorrere e quindi questo fu il segno che il Santo era contento e aveva portato a termine la sua missione anche con la sua morte anche nella sua morte San Bernardino da Siena prega per noi Grazie a tutti!